penultima gara di campionato bianconeri contro la ternana una ternana decimata dagli infortuni dalle squalifiche e dalle chiamate delle nazionali dei propri giocatori e i bianconeri non si lasciano sfuggire l'occasione questo è il match ball in gol con ambrogioni e piccoli finisce 2 a 0 cesena a quota 50 e sono i 50 punti della salvezza in 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 bastano 50 punti per salvarsi ai bianconeri che affrontano la gara di catania ultima di campionato con